Il consigliere Alfonso Baldi, sempre molto critico nei confronti dell'amministrazione, nonostante sia stato eletto tra i banchi della maggioranza, si dimette dalla prima commissione consigliare in polemica con l'esecutivo. Tenuto conto delle divergenze degli ultimi tempi, dichiara il consigliere Baldi, ritengo utile e responsabile l'assegnare le dimissioni. Questo permetterà alla sindaca e dai colleghi consiglieri di rimodulare la scelta anche in funzione dei nuovi equilibri politici all'interno della maggioranza. Baldi non ce l'ha il malcontento, non mi serve alcuna poltrona, né dal punto di vista politico né dal punto di vista economico, tuona Baldi, grazie a Dio vivo del mio lavoro. Sarò collaborativo ed aiuterò se lo vorrà il prossimo presidente nello svolgimento del suo incarico nei limiti delle mie capacità e competenze. Sono e sarò critico, questo fa parte del mio carattere, purtroppo non riesco a tenermi dentro le cose che penso. Per il futuro mi piacerebbe che le mie proposte e le cose a cui ho collaborato in modo attivo siano portate a compimento.